in qualche modo sta cercando così di far valore è finita la forza dell'Italia continua c'è ancora tutta la ponte i soffetti, il ritardo di Bolleghi con Cristian, Gattadini il quarto dell'anno partito tutto il giorno suferenza, gioia, c'è di tutto questa è stata una partita molto molto difficile perché abbiamo sfruttato la squadra e una gente in pubblico meravigliosa questo è lo sport noi l'abbiamo accettato abbiamo accettato di soffrire anche in certi momenti però abbiamo voluto questa vittoria oggi lo diciamo né grazie a Spagna né grazie a Croazia solo grazie a Italia perché ha cambiato l'atteggiamento nostro cambia il nostro europeo oggi oggi è stata una partita probabilmente abbiamo capito che dobbiamo mettere al di là della terra e della qualità anche molto fuori stessa l'abbiamo fatta